Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi venerdì 19 giugno 2015 siete sul canale 17 di Fano TV tra pochissimo i giornali prima vediamo l'almanacco con il santo del giorno oggi è San Romualdo il sole è sorto alle 5.25 tramonterà alle 20.54 è un po' più fresco rispetto a ieri alle 7.30 del mattino questa è intanto la fotografia che vedete pubblicata sul nostro sito internet 16 gradi, 17 gradi via alle 7.30 di questa mattina oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con aumento della copertura dalle ore centrali per nuvole comuniformi andiamo a vedere un attimo velocemente i satellite voglio farvi vedere ecco qua vedete l'animazione sulla sinistra del vostro televisore stanno arrivando queste nuvole stanno scendendo ed ecco che quindi potrebbero appunto portare quella pioggia che la protezione civile delle Marche ha inserito con l'animazione sulla previsione di oggi che interesserà come precipitazione naturalmente l'entroterra ma non si esclude che venga lambita anche la parte settentrionale della costa dove sono probabili costa settentrionale quindi la provincia di Piesa Urbino dove sono probabili rovescio temporali sparsi nel pomeriggio oltre alle colline oltre alle montagne dicevamo anche nella parte settentrionale della costa temperature lieve aumento per domani cielo nuvoloso ancora con probabilità di pioggia centro nella parte centro meridionale della regione temperature ancora in diminuzione domenica che tempo ci attende ma domenica sulla costa dovrebbe essere bel tempo soprattutto su quella pesarese ma insomma è tutto da vedere ancora ci sono due giorni e quindi tutto può succedere i primi giorni della prossima settimana invece saranno all'insegna del tempo bello del tempo stabile con temperature in ripresa la cronaca la morte di Luca Ugolini a Pesaro tragedia la notte scorsa tornava a casa a bordo del suo scooter e con lui c'era anche la compagna purtroppo è volato dal suo scooter e ha battuto la testa contro questo arco che vedete nella fotografia pubblicata dal resto del Carlino Luca Ugolini dicevamo aveva 44 anni padre di due figli titolare dell'omonima Rosticceria in piazzale Garibaldi a Pesaro si è schiantato la notte scorsa intorno alle 4 contro il basamento dell'arco del Miralfiore mentre stava viaggiando sul sellino dello scooter insieme alla sua compagna già in fondo alla discesa del cavalca ferrovia può aver perso il controllo del suo piaggio 250 sul quale viaggiava anche Macilla 43 anni di origine peruviana questa è la cronaca ovviamente questa notizia la ritroverete anche sugli altri quotidiani il Corriere Adriatico ed il Messaggero la politica invece apre la pagina di Fano con la richiesta dell'onorevole Lara Ricciatti di Sinistra Ecologia e Libertà Sell che chiede le dimissioni del presidente della fondazione Carifano Fabio Tombari dice la Ricciatti Tombari faccia un passo indietro si dimetta dalla fondazione poi si parla sulla pagina di Fano del resto del Carlino della commissione di garanzia e controllo è una questione di quorum la minoranza intanto si sta mobilitando per cambiare il regolamento la goccia della fortuna un'iniziativa dell'Avis di Fano diventa lacrima di commozione c'è stata emozione l'altra sera al centro Itaca per la consegna del premio la goccia della fortuna 2015 alla memoria di Lamberto Tonelli padre fondatore di Fano Corre il mondo del commercio invece è cartoceto in lutto perché è morto Severino detto Rino Mosciatti che tra l'altro oggi avrebbe compiuto proprio 83 anni fondatore 58 anni fa del negozio Mosciatti Abbigliamento che dopo 10 anni di attività nel comune di Monbaroccio nel 1967 venne trasferito a Lucrezia in via Flaminia dove tutto raccoglie appunto i propri clienti una folla incredibile ha partecipato ai funerali che si sono tenuti nella parrocchia di Lucrezia la cronaca ancora nelle pagine del Carlino con questo camion che si è ribaltato sulla Pecchiese il leso l'autista di 46 anni mi hanno salvato ha detto poi ai soccorritori le cinture di sicurezza l'autista dicevo un albanese di 46 anni che da 25 vive e lavora in Italia e guardate invece queste due ragazze che il Carlino alla quale il Carlino dedica questa pagina di oggi la pagina 4 ebbene sono due ragazze che sono state promosse con il massimo dei voti 10 e lode ma non chiamatele secchione promosse dicevamo con il massimo dei voti in tutte le materie loro dicono non è merito nostro ma è merito dei professori pieni di interessi divise tra sport e volontariato hanno idee chiare sui valori cambiamo adesso il giornale andiamo sul Corriere Adriatico dalla pagina di Peso Urbino Foschi Elisabetta Foschi in giunta ci voglio pensare parla così il sindaco di Urbino Maurizio Gambini che riunisce la maggioranza ma non decide le dimissioni di Ciampi troppo affrettate la pagina di Fano invece a luglio i migranti al lavoro Farneti Angiolo Farneti della Caritas di Fano spiega l'organizzazione per avviare l'attività volontaria potranno svolgere occupazioni utili a tutti lo scopo è quello di integrarli nella comunità travi pericolanti a Lido come vedete anche dalla fotografia la cave al momento è inagibile i danni prodotti dal maltempo e anche dall'incuri è stato rimosso tutto il legno si attende adesso l'approvazione del bilancio poi al Festival Passaggi oggi è il giorno di Del Rio e Bertinotti questo è quello che scrive il Corriere Adriatico speriamo che siano confermati tutti e due uno sicuramente non so su Terrio ma comunque poi vi terremo informati nel corso della giornata andiamo avanti comunque il Festival Passaggi ve lo stiamo trasmettendo sia in diretta che in replica ovviamente ma è un bel festival quindi è bene essere presenti perché si ascoltano delle cose interessanti allora garanzie e controllo le minoranze tre modifiche queste sono le richieste della minoranza appunto anche qui banca Marche per banca Marche obblighi non rispettati conflitto di interessi lettera aperta dell'onorevole Ricciatti a Fabio Tobare gli chiedo un passo indietro Berardi emergenza affrontata risultati positivissimi pesca e cantieristica navale proroga concessa Marina Group il Comune cerca di incoraggiare i segnali di ripresa nel settore le prime opere da realizzare sono quelle di urbanizzazione viabilità e un re arredo urbano la famiglia che va in crisi cortometraggio un film con quattro storie una produzione della Tiocesi con attori fanesi andiamo sulla pagina di Fano e Valle del Cesano da San Lorenzo in campo il Farro il Farro ambasciatore all'Expo di Milano la Monte Rosso dalle antiche scuderie del Duca all'esposizione universale di Milano da Montefercino sia la pulizia dell'alveo e all'allargamento della sede del fiume positivo incontro tra il presidente di Metauro Nostro e la provincia andiamo a Senigallia invece dove c'è in evidenza il progetto per una fontana a Senigallia il mio progetto è stato modificato l'architetto Fabio Mariano dice presente una fontana non c'erano gli stemmi papali poi sempre sul corriere la sexy ladra della quale si sta parlando in queste settimane anche perché ha agito per diversi giorni indisturbata la sexy ladra patteggia un anno stessa pena per il padre e per i due cugini siamo provati dal carcere torneremo in Romania erano stati arrestati la scorsa settimana dai carabinieri che stavano seguendo la loro golf apriamo adesso il messaggero regione la giunta dei debuttanti i debuttanti Ceriscioli il presidente dice il fatto che ci siano tanti nuovi nomi nell'esecutivo non mi preoccupa come Marcolini o Sciapichetti voglio il candidato più unitario si deciderà a ore dunque tra poche ore sapremo chi sarà in giunta con il presidente pesarese Luca Ceriscioli e quindi sapremo chi ci governerà per i prossimi cinque anni poi anche qui sul messaggero la tragedia all'arco del Mirafiore dove è caduto e morto con lo scooter Luca Golini di 44 anni chiarezza invece sul futuro di Banca delle Marche Ricciatti si appella al ministro la parlamentare di SEL chiede certezze in tempi rapidi a Padoani il comune di Fano invece qua sotto vedete aiuta Marina Gruppo entriamo nelle pagine interne dunque del messaggero giunta tanti nuovi non mi preoccupa Ceriscioli ultimi dubbi Marcolini Comeo Sciapichetti l'importante che sia unitario la vicepresidenza del consiglio ai grillini sarebbe giusto il gruppo Marcolini rispetto dei patti chiedono Comeo ribadisco no ai terzi mandati pilli in calo ma la domanda interna riprende luci e ombre nel report di Banca Italia un report che come ogni anno è stato esposto qualche giorno fa appunto ieri nella sede di Banca Italia di fronte ai giornalisti dal 2007 persi 54 mila posti di lavoro nelle marche le istanze di fallimento sono quasi 3 mila ma occupazione l'occupazione sale andiamo nelle pagine ancora interne del messaggero anche qui vedete la cronaca con la morte del del ristoratore di 44 anni che gestiva la storica rosticceria di Piazzale Garibaldi a Pesaro voleva aprire anche una polleria lascia scrive il giornale due figli Foschi in giunta all'issaputa di tutti Elisabetta Foschi sposata con l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi a Urbino l'assessore Ciampi rassegna le dimissioni al suo posto pronta a subentrare appunto l'ex consigliere regionale il sindaco di Urbino dice è una decisione avventata il segretario di Forza Italia Bettini invece dice io non sapevo nulla l'avvicendamento sarebbe legato ad un accordo interno al partito Gambini valuteremo dice insieme all'esecutivo il Movimento 5 Stelle che attacca di nuovo la provincia la provincia giudicata un disastro i dirigenti invece si difendono e dicono accuse pretestuose botta risposta dopo la bocciatura della Corte dei Conti ancora chiudiamo la rassegna stampa con la pagina di Fano del Messaggero nuovo polo per cantieri e pesca il comune aiuta Marina Group il consorzio infatti ottiene un'ulteriore proroga un anno e mezzo per cominciare i lavori al porto le opere pubbliche dovranno però essere finite entro il 2016 oppure la concessione decadrà l'assessore Paolini l'assessore dei lavori pubblici dice la nautica mostra i primi segnali di ripresa perciò vogliamo sostenere il progetto a centro pagina si rompe a Lido una trave del frangisole addio ombra lungo la passeggiata mentre ieri sera mi è arrivato una foto un messaggio dove sempre lì a Lido da quelle parti insomma mi pare che sia stato riparato il tendone non so se a Lido o quello della Sassonia adesso faccio un po' di confusione magari me lo diranno Sassonia era quello della Sassonia perché abbiamo i problemi che sono sia a Lido che la Sassonia però è stato riparato il tendone alla Sassonia anche perché non era un bel vedere poi anche i bambini disabili e questa è una bella iniziativa l'abbiamo già detto rimarcato più volte i bambini disabili hanno la loro altalena il gioco è stato donato dall'associazione Sandro Pertini ed è un altalena sulla quale possono giocare i bambini disabili a Ponte Sasso di Fano poi rifiuti e scontro sulle telecamere Fratelli d'Italia e 5 Stelle criticano l'idea del Comune di utilizzare la videosorveglianza per le isole ecologiche e con questo ci fermiamo qui grazie per aver seguito Occhio e Giornali questa sera Occhio e la Notizia alle 20 e 30 vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani a